Niente, abbiamo ottenuto un grande risultato, anche inaspettato, sì a due cifre, lo immaginavamo, ma non a due cifre così consistenti e il popolo ternano, i cittadini ternani credono in noi, noi li difenderemo portando avanti le nostre idee, quello con cui ci siamo battuti sul territorio fino ad oggi, sicurezza, agricoltura perché anche se fa il 2,7% dei PIL magari molti non la considerano, ma invece è fondamentale secondo me per lo sviluppo economico nel nostro territorio e per quanto riguarda poi lo sviluppo economico in generale proprio, cercare di proporre progetti e iniziative. Grazie.